Grazie a tutti. Soprattutto il di castello che le chiese orientali è casa vostra perché è fatto da voi, sono gli orientali che prendono le decisioni quando ci sono le plenarie eccetera. La seconda cosa è il desiderio di esprimere tanta vicinanza e tanto affetto in questo momento di dolore e di sofferenza straziante e continuo che chiederà grandi sacrifici e grandi fatiche per cercare di ridare il senso della dignità alle persone che sono state stracciate nella loro personalità. E poi l'altra cosa è ascoltare dai vescovi le loro testimonianze. Questo per me è molto importante perché mi aiuta a capire meglio e a cercare di fare meglio il mio dovere e anche di avvertire il Santo Padre di tutte le cose di cui sono corrette.